Sarà un anno che non vado più a opera per il colloquio. Non mi piace l'atteggiamento che l'Olindo ha con me. È geloso, anche con te, vuole sapere di che cosa parliamo, cosa ti racconto. Olindo ha sempre deciso su tutto. L'arredamento, la macchina, perfino la lunghezza a cui doveva tenere i capelli. Le chiedo per quale motivo ha consentito. Perché non mi piace stare da sola, mi pesa la solitudine. Perché, anche se c'è tanto casino, con le persone impari a parlare, impari tante cose. D'ora in poi devo cercare di guardare avanti. Lui ha il passato. È un passato che sono molto arrabbiata. Mi ha messo qui dentro. Non so cosa gli volava nel cervello. Andava avanti a dire cose non vere. L'ergastolo ti sveglia. Ci volevano separare. Ero spaventata. È stato pesante. Tu non capisci. Qui in carcere mi si è aperta una nuova prospettiva. Di poter camminare con le mie gambe. Di poter lottare per conquistare qualcosa. Ho lavorato tanti anni con la psichiatra. Io c'ho dentro come l'ubriacone. Sai quelli che bevono, smettono dieci anni e poi gli basta una caramella con liquore per tornare nel tunnel? Ecco, io non voglio entrare dentro questo tunnel di nuovo. Professoressa Chieffo, questi sono tutti i racconti che ha fatto Rosa Bazzi ad Alessandra Carati. scrittrice che l'ha seguita in carcere ed è stata tantissime ore a contatto con lei. Era venuta qui alla Volta Buona a raccontare proprio questi incontri che poi sono diventato un libro. Alessandra Carati oggi è lì proprio a seguire. Quanto sta succedendo, visto che tra un po' il processo riprende? Io penso che quando si parla in questi casi bisogna anche capire qual è la storia di questa persona. Questa è una persona che comunque è una quinta elementare, una persona che di fatto non ha potuto fare dei passaggi anche, ma è poi anche dal punto di vista cognitivo una persona un po' infantile in alcuni tratti, ma allo stesso tempo ha bisogno in qualche modo anche di trovare un rifugio. e quindi in questo, nel rapporto con Olindo, ho trovato una sorta di dipendenza, ma anche di gratificazione. Ma nel momento in cui lei si è resa conto di, appunto nel momento della separazione, anche rispetto a questo racconto, forse piano piano ha capito, ha compreso, quale fosse il suo bisogno principale. Fatto sta che alcune persone che hanno una condizione di vulnerabilità psicologica spesso si rifugiano in quelle che sono, appunto, delle dipendenze affettive. Però c'è anche da dire... Ma in questa c'è una grande dipendenza affettiva. C'è una dipendenza affettiva, ma non solo. Ci sono anche comunque dei comportamenti, a volte vanno oltre, quindi di fatto anche dal racconto che avviene, a volte si riportano dei vissuti di questa donna che comunque chiacchierava con tutti, formulava comunque spesso anche delle bugie, quasi come se avesse bisogno di essere presente all'interno del suo contesto in cui viveva, grazie anche a forme di simulazione. Però stiamo parlando di una donna che comunque può avere anche delle difficoltà di tipo cognitivo. Professoressa, allora chiudo con una domanda. Ma chi ha un problema cognitivo può essere un serial killer? Può essere una persona che uccide? Può essere una persona che fa quello che sappiamo della strage? Una persona con una disabilità intellettiva può compiere comunque una strage, così come anche in una forma di delirio può succedere. Prego. Allora, abbiamo parlato prima delle confessioni, poi mi raggiungo a quello che ha detto la professoressa e chiudiamo. Allora, nelle confessioni ci sono tanti aspetti che soltanto chi ha commesso il reato poteva sapere. La ferita alla coscia della Cherubini, il fatto che non sia stata seguita al piano di sopra dagli aggressori, le modalità dell'aggressione a Frigerio sono raccontate in maniera uguale da marito e moglie e entrambi sanno come è stato acceso l'incendio, prima ancora che sia stata consegnata la perizza sull'incendio. E addirittura Olindo riesce a raccontare in maniera corretta alcuni aspetti dell'aggressione che sono stati descritti in maniera sbagliata nel decreto di fermo, mentre invece lui le racconta in maniera corretta. Poi c'è la Bibbia, per otto mesi, sette, otto mesi dopo la confessione, Olindo continua a confessare, a scrivere frasi chiaramente di autoconfessione sulla Bibbia che gli è stata data in carcere. Non aveva nessun bisogno di scrivere lì sopra, perché nessuno lo stava pressando. Invece continua a dichiararsi colpevole, smetterà con il cambio di avvocati. Potremmo continuare su questa falsa riga. Ma non abbiamo tutto questo tempo, volevo sentire anche Giovanni. Una sola cosa, molti anni fa mi capitò un caso, un pubblico ministero disse che l'accusato di quell'omicidio non poteva essere stato lui, perché era un povero fessacchiotto, era l'omicidio di Lisa Claps. Il povero fessacchiotto era Danilo Restivo, ha ucciso Lisa Claps, ha ucciso Heather Barnett e forse anche Occhi. Attenzione a quelli che sembrano fessacchiotti, con il ritardo cognitivo di cui ha parlato professoressa, perché questo non significa... Infatti la professoressa ha detto che si può assolutamente. Non significa assolutamente niente, un conto è ciò che sembriamo, un conto è ciò che siamo. Si può essere molto malvagi anche quando si sembrano dei poveri fessacchiotti. Giovanni, prego, siamo veramente in chiusura, è arrivato l'ospite della puntata. Sì, velocissimo. Guarda, io come ho risordito oggi, non ho detto sono innocenti. Io dico che ci sono state trovate delle risultanze nuove che comunque possono sostanzialmente trasformare una decisione dei giudici. Allora, per quale motivo non fare una revisione per vedere all'interno del processo se queste risultanze nuove incidono sulla colpevolezza o meno di Rose Olindo? E' solo questo. E' un fatto di garanzia, non è un fatto che Rose Olindo sono innocenti, Rose Olindo sono colpevoli. E' un fatto di garanzia che nulla cambia. Però sono passati talmente tanto tempo che alla fine però sono anche soldi che si spendono e un processo magari anche in più. Certo, però certo che... Caterina, prova a immaginare se per caso veramente fosse stato un errore giudiziario saremmo di fronte a una cosa mostruosa. Quindi, diciamo, qualche soldi in più merita il fatto di due persone che ad oggi sono colpevoli e però magari su risultanze nuove possono risultare non colpevoli. Allora, ricordiamo che il sostituto procuratore... L'ultima cosa, a me dà fastidio, l'unica cosa mi assumo, a me dà fastidio quando un pochettino, scusami, lo dico sommessamente, il procuratore della Repubblica dice ricordiamoci le povere vittime, ma queste ce le ricordiamo al di là del fatto che siano colpevoli e innocenti Rose Olindo. Quelli sono delle povere vittime comunque, cioè non bisogna associare questo. sennò diventa una suggestione che a me inquina un po' la decisione, lo dico sinceramente. Ma è pieno di suggestioni, purtroppo, questa richiesta di revisione, da una parte e dall'altra, è pieno di suggestioni. Però scusa, io leggo il sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Milano, Tarfius, che dice Frigerio parla di un'altra persona, diversa da Olindo Romano, ma nei continui interrogatori gli suggeriscono il nome di Olindo e tende a convincersi, è condizionato appunto tale dagli inquirenti, da autoconvincersi che sia stato aggredito da Olindo. Non lo dico io, lo dice il sostituto procuratore generale. Guarda, io ho una posizione molto particolare su questa vicenda. Sono stati loro, ma con le prove, ma non con le prove che sono state presentate. Nel senso che... No, dobbiamo ammettere il fatto... Eh, vabbè, ma le persone vanno all'ergastolo con le prove, però... No, secondo me ci sono prove sufficienti anche senza Frigerio. Sono d'accordo sul fatto, per onestà intellettuale. Per me, quello che sarà la prova di Frigerio, non è una prova attendibile. Non era idoneo a testimoniare. Però era una prova fondamentale per il caso. Professoressa, non se ne esce. Questa è la verità. Fatemi chiudere con gli avvocati, che sono con Daniela Scotto. Cosa sta succedendo adesso, visto che siete lì? L'udienza non è ancora ricominciata, sta per ricominciare e probabilmente durerà ancora un bel po' di ore. Penso di sì, perché devono ancora svolgere dei lunghi interventi rispetto alle confessioni, rispetto alla prova del DNA, per cui stiamo a vedere che cosa succede e che cosa deciderà la Corte. Quindi aspettiamo. Grazie, grazie del vostro tempo, grazie ai nostri ospiti, grazie di essere venuti.